Si terrà anche a Caltanissetta nei pressi del piazzale del sito archeologico di Sambucina la serata pubblica nazionale Occhi su Saturno, appuntamento venerdì 22 alle ore 21 e 30. Nella nota di presentazione dell'iniziativa su Facebook, Marco Torregrossa fa sapere che l'evento vedrà l'uso di strumenti astronomici e in prima linea l'associazione Orsa Minore di Caltanissetta. Si legge inoltre che durante la serata astronomica si potranno osservare diversi oggetti celesti Luna, Venere, Giove, ammassi stellari e altro. Si tratta di un evento gratuito aperto a tutti. Torregrossa auspica una massiccia partecipazione. L'iniziativa è nata nel 2012 da un'idea dell'Associazione Stellaria di Perinaldo in provincia d'Imperia, a 300 anni dalla morte dell'astronomo Giovanni Domenico Cassini.